Come direttore marketing di Infront, chiedo subito come vedi il futuro del marketing in un mondo che si sta sempre più spostando sul digitale? Sì, effettivamente abbiamo parlato durante l'intervento lungamente di digitale e di come le tecnologie si stanno evolvendo. Devo dire che io mi occupo di marketing sportivo dal 2003, quindi in un po' di anni e non ho mai visto in tutti questi anni tanti cambiamenti, diciamo di tecnologici, diciamo tante evoluzioni tecnologiche come in questi ultimi 3-4 anni. Basti pensare, non so, alle criptomonete che due anni fa non c'erano e oggi investono nello sport. Alle regional partnership per essere possibili dall'advertising virtuale, quindi la possibilità di geolocalizzare i messaggi. Quindi ovviamente il marketing è un po' al centro di tutta questa evoluzione, deve essere uno attento a comprendere i cambiamenti tecnologici e all'impatto che avranno ovviamente sulle opportunità collegate al business sportivo e all'evoluzione che può avere una propria di sportiva. E due, quanto più possibile anticipare questi cambiamenti, quindi andare oltre magari l'immediato futuro, che è la parte più complessa. Sicuramente serve tanta creatività, tanta voglia di mettersi in gioco e quindi tante curiosità, non smettere mai di imparare. Perché comunque, come abbiamo visto, l'evoluzione tecnologica è molto rapida, quindi bisogna essere anche altrettanto rapidi. Abbiamo parlato a lungo quindi dell'importanza che ha nell'online. Dove invece resta fondamentale il marketing nelle opportunità offline? Sì, allora, chiaramente quando c'è un'innovazione, tutti si concentrano sull'innovazione, perché chiaramente è la nuova via. Però tutto ciò che è passato non è estremamente da buttare via, anzi rimane e va quanto mai sfruttato, nel senso che quando noi parliamo di aziende sponsor, parliamo di aziende che decidono di investire su un club, una federazione, comunque una property sportiva, un rights holder e quindi sono aziende che investono in associazioni di immagine. E l'associazione di immagine che poi è il legame tra i due brand, quindi da una parte il club o comunque la property sportiva dall'altra al brand, lo si comunica in mille modi. Un biglietto che serve per portare un cliente allo stadio è comunque un modo di comunicare e ovviamente questo esiste, esisterà ancora e per fortuna oggi torniamo allo stadio e quindi diventa importante nuovamente. La visibilità televisiva, che è il cuore della sponsorizzazione, è stato per anni, lo è ancora, semplicemente è un modo per comunicare e ci si aggiungono tutti gli altri modi legati al digitale, quindi le attivazioni, i concorsi, l'engagement dell'audience, quindi è tutto un insieme di marketing mix di attività che vanno assemblate e utilizzate per proporre poi alle aziende un insieme di attività che possono essere finalizzate all'obiettivo dell'azienda che è quello di comunicare alla propria audience. Per concludere, visto che sei stato presente alle Olimpiadi di Torino del 2006, uno sguardo al futuro, Milano-Cortina 2026, che opportunità è per una città poter avere un evento di questo calibro? Allora, rispetto a Torino 2006, Milano-Cortina in realtà non è una città come l'estate nel 2006 che era Torino e le valli intorno a Torino, ma è proprio parte di una nazione, perché parliamo di Milano, di Valtellina, parliamo di Cortina, Veneto, quindi sostanzialmente è un'area molto più grande. Le Olimpiadi Invernali sono il terzo evento sportivo più importante al mondo dopo le Olimpiadi estive e i mondiali di calcio. Quindi per una nazione, quindi dimentichiamoci per un attimo una città, ma per una nazione ospitare le Olimpiadi è evidentemente un evento epocale, succede raramente nella storia di una nazione di ospitare le Olimpiadi. L'Italia ha avuto l'abilità, la bravura di avere due Olimpiadi Invernali abbastanza ravvicinate, perché il 2006-2026 per l'organizzazione di questo tipo di eventi è un periodo molto limitato e ravvicinato, anche se sono comunque vent'anni. Quindi l'opportunità è di riqualificare, di riposizionare un'intera nazione e quindi ovviamente, se pensiamo a Torino, come era prima l'Olimpiadi e come è stato dopo, quindi la riqualificazione, la ringiovanire una città, le infrastrutture. Questa è un'occasione ovviamente per Milano-Cortina, che sicuramente non verrà mancata e chiaramente è un'opportunità di anche promozione incredibile in tutto il mondo. Grazie mille Stefano Di Antoni.